E' il fumo che si sentirà, che attirerà, che uno andrà a curiosare e dire cosa sarà un belio calloccio di salsiccia. Per il primo maggio ci sono gli ultimi arrosti. Ciao amici del tubo, ciao dalla signora Tetena. Volevo augurare un buon primo maggio a tutti e a tutti che stanno facendo tutto quello che è i miei veramente mangiate, divertite, vi raccomando sempre prudenza, capito? Vi voglio bene, vi voglio bene. Allora, signori miei, scusate, ma ho un problema nei capelli. In questo periodo di maggio, capito, che sta per entrare maggio, io perdo, capito, ecco, non hanno più forma i capelli, diventano arrezzate, capito, come arrezzano i caine, piccaitone, diventano tipo arrezzate, quindi ne li posso pettinare, ne li posso fare, li lavo, tali e mi vanno ora così. No, 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 e canciare colore. Devo cambiare colore, mi dispiace per tutti quelli che a me mi ammirano rossa, chi tu chi è? Oggi ho fatto cambio stagione pure dell'armadio a ponte, capito? Ho levato tutte le cose, fare, dire, chi tu chi è? Io appino faccio che d'estate ci faccio mettere le cose invernali, d'inverno le cose estive. Infatti ci scendevo cavusi velluto, ma di una dolce vita finacca. Chi si sa va a mettere? Queste si deve mettere che non se li mette mai. Dice, ma ora che è maggio? Sì, ora che è maggio. Ora te la fammi mettere, capito? Che così ti levi il vizio, che mi lasci ste cose nell'armadio che puzzano poi, puzzano. Pantaloni cacifici somaci, lo 15-18. Pantaloni del 15-18 che ti ha fatto tua madre che non valgono più niente. Già due li ho presi come pezza per spolverare di lana, come pezza di lana, ma manco levano a polvere. Neanche sono buoni per spolverare. Stamattina, senza dirci niente, ci ho buttato tutte le mutande cacifici somaci. ce ne lasciavo su loro para. Quelli con la tasca di dento, che schifo. Che schifo. Ci fici ste mutande come se tu già dentro, chissà che tesoro doveva mettere. Che tesoro? I soldi. Capito? I soldi. Assurdo. Queste sono le mutande che usavano i militari per nascondere i soldi. Là dentro, ai tempi, mi raccontava mia nonna, quando mio nonno era militare, e fischi che ducchi fi. Aveva queste mutande che li rinchi a ci metto. Ci si immagina quando pava e che ti si pigliavano. Aia! Aia, mamma mia! Neanche a pensarci. E intanto sono cose antiche. E sommati ci fischi queste mutande. Neanche a pensato, è uno sposino, ci faccio qualche paio di slip, qualche cosa. Già mi fischi cadere il cuore la prima notte di nozze, con queste mutande che ci ha comprato sua madre. Figurati. Vabbè, e ancora ce l'avevo qua. Ma sono mutande che ha manco su buoni più muschi, per cacciare i muschi. Mamma mia! Assurruvide! Ruvide! Di davanti pare una calza veciata. Ma come si fa? Io non lo so. Io invece ho cambiato anche il mio intimo, perché io nel cambio stagione ho pure l'intimo stagionale. Capito? Ho preso tutte le mie mutandine retate. Capito? Retate. Io mi metto e io mi taleo. Che cosa posso fa? Non è che dice magari posso capire che una si compra ste cose perché viene vista, perché magari ha un compagno, un marito che ci sente privo e io faccio. Ma cazzo! Mi taleo un dico buone. Faccio mentalmente, capito? Penso mentalmente. Ma a cui le fare a bere? Capito? I reggiseni che io d'inverno uso, quelli in palla, che casun non bottiti con la lanaccia, capito? Che tengono il seno bello caldo e ora mi ne scivo tutti quelli tipo col salecone, tutti quelli che non si vedono, leggeri cotone fino 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 fino, che di una frescura che neanche lei si può immaginare. Cose per il cambio stagione, il cambio stagione. Capito? Le canottierine, tutte queste cose di qua. Le calze pure, perché io non ne uso queste calze di là, non cade e chi se le fa l'anca, si dice qua. No, no, no. Io uso le calze di cotone, come i maschi, a metà. Mi piacciono di più quelle per le scarpe da tennis, che di bianchi. Una volta un picciottetto fa dice signora, dice pare una mascolotta, dice zitto, ma che cos'è il suo discorso? Dice ci ha messo le mocassine con le calze quelle da tennis, richiamano di marca, capito? I picciottetti signor d'uno. Dice, ma tagliaci i pere a tua macchia, anziché guardare me, assurdo. Sa prega a montare tutti i corsi, anche i ragazzini. E allora, buon ponte, buon primo maggio, vi voglio bene tutti e tutti quelli che stanno vedendo questo video, senza togliere nessuno. Avete veramente la mia, come che si dice, la mia contentezza di qualsiasi cosa fate per il primo maggio. State con le persone giuste, è tutto bello. Mangiate, bevete e buonanotte. Un bacio dalla vostra signora Titina. Ciao, alla prossima.